Cariani SAS, vendita macchine e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio, officina assistenza e ricambi. A disposizione dei nostri clienti, una lunga esperienza maturata nel corso degli anni e una ricerca costante, abbinati ad uno studio approfondito degli usi e delle varie necessità dei clienti. A San Pietro in Casale, in via Govoni 102.